Notizie confortanti ma non ancora ritenute sufficienti dagli addetti ai lavori sul futuro dell'ospedale San Massimo di Penne sono uscite dal recente incontro del Comitato Ristretto dei Sindaci. Nella riunione in videoconferenza il tema principale è stato quello del riordino della rete sanitaria regionale. Oltre ai sindaci hanno partecipato inoltre il direttore generale della ASLE Vincenzo Ciamponi, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e di sindacati di categoria. Il documento, che per ora resta ancora una bozza, dovrà essere ridiscusso nelle prossime settimane prima di essere approvato in consiglio regionale. Il San Massimo, riclassificato come ospedale di base e sede di pronto soccorso, nel nuovo documento acquisisce qualche posto letto in più per l'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia. Oltre ai già previsti due posti di urni dei hospital, la chirurgia pennese ottiene 6 posti letto ordinari. Così complessivamente saranno 80 posti letto ordinari, mentre restano 14 posti letto di urni. Purtroppo però, per la classificazione dei singoli reparti, invece, non ci sono stati passi in avanti. Io avevo chiesto al Comitato Ristretto dei Sindaci di convocare una riunione alla quale venisse invitata anche l'assessore Verì. Questa riunione effettivamente c'è stata, però non ci sono giunte notizie precise sul destino più in generale del riordino della rete sanitaria ospedaliera dell'Abruzzo, in particolare per quanto riguarda noi sul destino, sul futuro dell'ospedale San Massimo. Ci è stato detto che esiste una bozza, che io però personalmente non ho ancora visionato, che verrà valutata e ci saranno poi delle riunioni, degli incontri nella quinta commissione. Una volta approvato il provvedimento, il tutto passerà a livello dell'approvazione del Consiglio regionale. Io sono fermo a queste notizie. Per la riqualificazione strutturale messa in sicurezza dell'ospedale si attendono ancora i lavori, inizialmente annunciati ad aprile e non ancora cominciati. Dovevano iniziare ad aprile, evidentemente ci sono state delle contrarietà, per cui mi giungono notizie che i lavori inizierebbero a settembre.